Ciao ragazzi, il mio nome è Patti Lili e sono una ballerina e cantante italiana specializzata in danza del ventre, burlesque danza fusion e musica vintage anni 40 e 50. Su mio OnlyFans vi porterò nel dietro le quinte del mio lavoro e vi lascerò scoprire qualche piccolo segreto riguardante la mia attività. Spero di conoscervi presto, grazie a tutti, un bacio! Grazie a tutti!